La ricostruzione delle scuole dei comuni del cratere all'insegna del rapporto tra architettura, pedagogia e didattica è innovazione la parola d'ordine del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, l'Ufficio Scolastico Regionale e INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, volto proprio ad applicare agli edifici scolastici in via di realizzazione nell'ambito del piano scuole Abruzzo, il futuro in sicurezza, le più moderne indicazioni in tema di innovazione negli ambienti didattici. Una collaborazione per l'Aquila e i comuni del cratere che apre nuovi spiragli e una nuova speranza riguardo la ricostruzione delle scuole, ancora tutte o quasi, nei cosiddetti moduli ad uso scolastico provvisorio. Oggi la scuola che avremo nei prossimi anni è una scuola che non avrà più soltanto libri, lezioni e quindi non avrà bisogno solo di aule, ma avrà bisogno di un ambiente organizzato diversamente. Queste sono state recepite nelle linee guida che anche la Presidenza del Consiglio adesso ha messo a punto e quindi noi siamo qui per sostenere questa vision sulla scuola del futuro. Io credo però che nella sfortuna e nel disagio che tutto questo comporta, ci siano delle opportunità, perché forse questa zona è quella che deve ricostruire, quindi ha l'opportunità di ricostruire scuole nuove, non dappertutto, questo è possibile, anzi. Il piano denominato Scuole Abruzzo, il futuro in sicurezza, è finalizzato al sostegno della riparazione e ricostruzione messa in sicurezza del patrimonio scolastico dell'intera regione, danneggiato dal sisma, per quasi 300 milioni di euro a disposizione. Uno dei programmi stralcio riguarda anche 12 interventi, di cui 9 istituti scolastici della provincia dell'Aquila, nei comuni di Avezzano, Sulmona, Raiano e Vittorito. Sì, sulle scuole noi abbiamo un plafond di oltre 155 milioni per oltre 145 interventi, abbiamo già impegnato il 50% di questa somma e viaggiamo tra i 20 e i 30 cantieri aperti. Oggi firmiamo un importante protocollo con degli enti che possono darci una mano a supportare i comuni nelle fasi progettuali e di progettazione in generale dell'edilizia scolastica. Il protocollo, andiamo a sottoscrivere, consentirà all'amministrazione di avere il supporto di questo importante istituto di ricerca del Ministero dell'Istruzione, proprio per progettare delle scuole che siano quanto più in linea con i più rocenti indirizzi che sta dando il Ministero dell'Istruzione su questo tema. Ci saranno attività estese rivolte a tutti i docenti ma anche ai progettisti chiamati a disegnare le nuove scuole e poi ci saranno degli approfondimenti relativi a casi specifici che verranno attivati su singoli comuni che andremo a selezionare in base agli interessi delle scuole e degli amministrazioni. Grazie.